Ciao a tutti, oggi siamo qui con un nuovissimo video del canale Siamo qui con rispondo alle vostre domande Qualche settimana fa vi ho chiesto nei commenti su un post community Di farmi qualche domanda, quello che volete Questa qua è la parte numero 6 della serie A cosa? Rispondo alle vostre domande Prima che iniziamo iscrivetevi al canale, attivatevi la campanellina e lasciate un bel like Iniziamo con la prima domanda Prima domanda fatta da Prima domanda fatta da Paomeiko Penso che l'ho detto bene La mia domanda è, perché non fai un video di Brawl Stars? Complimenti per i tuoi video Prima cosa ti ringrazio per il complimento Seconda cosa ti rispondo, ovviamente Un video di Brawl Stars, già lo fesci due o tre anni fa I primi video proprio Forse faccio un altro video di Brawl Stars Però il problema è che Brawl Stars a me non mi dice niente Cioè, non è che non... Cioè, è brutto per me Però, cioè, è neutro Possiamo dire che non mi piace E mi piace Però, non lo so Sicuramente lo faccio, sicuro Però, non ho il coraggio di fare questo video Di questo videogioco Però, forse lo faccio Ok Prima domanda da Chitker Car Vabbè Ciao, prima cosa Saro, un giorno porteresti Rocket League Rocket League lo so Stavo per farci un video Però poi non l'ho fatto più Se lo volete Ve lo porto Sicuro Sicuramente ve lo porterò Tra i tuoi Più avanti Comunque però Teniamo in sospeso questo videogioco Cioè, Rocket League Rosic Uno Vabbè Ci mostri il tuo armadetto di Fortnite Sicuro farò un altro video di questo genere Perché Io ho fatto quattro video Del mio armadetto Però faccio vedere Sono mezzo di skin, ovviamente Non tutto Il mio primo video Poi Saro Rosenic e Stefanic Voto nel mio armadetto Poi, vabbè, quello là Quando ho speso su Fortnite Allora, ho fatto un altro video Però vorrei fare La parte 2 Del mio primo video Per questo Vabbè, prossimamente ci sarò Sicuramente Anche questo video Perché sto aspettando Sto aspettando Che arrivo a 300 skin Ne mancano Poche skin Ne mancano Per inaugurare le 300 skin Farò questo video Il capitolo Il capitolo 2 E il capitolo 3 Preferisco Ok Sare Rosenic Il canale Che abbiamo creato io In compagnia di Rosenic Iscrivetevi In link in descrizione Vi lascio tutti I canali dove Dovete iscrivervi È obbligatorio Devi fare un video Dove dici 100 volte Rosenic Non lo farò Però Questo commento Ha fatto riflettere Ma ha fatto Venire in mente Un video Non lo dico Però già l'avete capito Perché è arrivato In questo Minuto Di video Vabbè Non spoilerò nulla Prossima domanda Da Rollu Il tuo primo video È stato Il mio primo video È stato Risale Al Due anni fa Risale In questo momento Della registrazione Febbraio 2024 Il mio primo video È stato Del Vi mostro Il mio armadetto Di Fortnite Mamma mia Che video Vabbè Non lo andate a guardare Mi raccomando Andrea Adesso abbiamo Andrea Una domanda Che farà gli altri giochi A parte Fortnite E Minecraft Fortnite Lo porterò Sempre Fino a quando Non mi stanco A giocarci Perché possiamo dire Che Fortnite È proprio Come dice L'icona Possiamo dire È il mio canale Minecraft invece Non lo sto portando Mi state Mi state Chiedendo Perché Cioè Vediamo i video Di Minecraft Che stanno uscendo In questi giorni Sì è vero Stanno uscendo i video Di Minecraft Però questi video qua Sono stati fatti Da agosto Perché è una serie Ovviamente E ancora deve terminare Vabbè Mancano pochi episodi Della vita Da scuola Però vabbè Poi vabbè Dopo finito La vita reale Porterò Un altro gioco Che Stefanik Lo sa E vabbè A breve Ci saranno Due novità Ok Facciamo uscire Prima quella La più corta E poi facciamo uscire Per la più lunga Ok Menzi Penso che l'ho detto bene Domanda Quali ti piace di più I Griffin o i Simpsons Ok Proviamo a aprire Una parentesi Penso Perché i Simpsons Sono divertenti A prescindere I Griffin Sì sono divertenti Però Sono Crudelli Possiamo dire Di violenza Però Fanno ridere Per me Sono entrambi Per me Però se devo scegliere Uno I Simpsons E poi Infine L'ultima domanda Abbiamo Ti piace la Nutella Da parte di Rosa Nick Se mi piace E sicuramente Non la prendete Della Nutella Non la compro Perché non lo spicci Il video finisce qua Di rispondere a vostre domande Vabbè Tra qualche mesetto Vedete un'altra parte Di questo video Ci vediamo Alla prossima Ciao